Era irreperibile da quasi tre anni, da quando cioè riuscì a sottrarsi ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della procura distrettuale, perché accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La latitanza di Vincenzo Di Marte, ritenuto elemento di spicco delle cosche Pesce e Alvaro operanti nelle zone di Rosarno e Sinopoli, è finita la notte scorsa in località Ponte Vecchio a Gioia Tauro. È lì che i carabinieri lo hanno scovato, a stanarlo i militari del gruppo di Gioia Tauro, del nucleo investigativo di Reggio e dello squadrone li portato Cacciatori Calabria. Di Marte, 37 anni, era stato recentemente inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi sul suo capo, pende una condanna in primo grado a 14 anni di reclusione. La cattura di Di Marte è giunta al termine di una meticolosa e articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, scaturita nell'ottobre del 2017. Di Marte è stato sorpreso all'interno di un'abitazione al pian terreno, è lì che aveva trovato rifugio da qualche giorno. Al momento dell'arresto, il 37enne non ha opposto alcuna resistenza. Con l'accusa di favoreggiamento, sono state fermate altre quattro persone, avrebbero aiutato i latitanti a sottrarsi alla cattura. All'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto documenti falsi, circa 12 mila euro in contanti, un tablet e diversi telefoni cellulari. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Nel giro di pochi mesi un secondo latitante inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi dopo Emanuele Cosentino in Germania, adesso Vincenzo Di Marte, rintracciato proprio a Gioia Tauro, dopo alcuni mesi di meticoloso e intenso lavoro, coordinati efficacemente e con grande continuità dalla Procura della Repubblica, direzione di istituzione antimafia qui di Reggio Calabria. I militari del gruppo di Gioia Tauro e dell'unico investigativo del provinciale, coadiuvati eccellentemente come sempre dai cacciatori di Calabria, l'hanno scovato in una villetta vicino al centro di abitato di Gioia, dove c'è anche una cava di inerti, era fiancheggiato da due coppie di coniugi che poi sono stati arrestati per favoreggiamento. È destinatario a un provvedimento di condanna per 14 anni di reclusione per traffico internazionale dei stupefacenti, fra la Sud America, la Spagna e l'Italia, quindi assolutamente una persona, un personaggio di spicco che fiancheggiava e contribuiva all'arricchimento delle cosche Alvaro e dei pesce di Rosarno. L'internazionalità del suo provvedimento è derivata proprio da un'operazione della Guardia di Finanza del 2015 che scoprì un vasto traffico di tonnellate di cocaina dalla Sud America all'Italia e lui si nascondeva ancora nella Piana in Gioia Tauro e sicuramente era inserito ancora negli stessi circuiti criminali. Nel 2016 era stato già raggiunto il fratello, sempre l'arrestato dai carabinieri della medesima area. La latitanza non paga essenzialmente perché il dispositivo che viene posto in essere l'intensità delle indagini che vengono coordinate poi dalla procura e la determinazione dei carabinieri a ricercarli ne lascia scarse possibilità di fuga e di nascondersi sia nell'ambito dei centri abitati sia in campagna come recentemente è avvenuto per altre persone, per altri latitanti sia nella Piana che nella Locride e anche all'estero perché anche all'estero ne abbiamo presi solo noi, quattro, ma tutti nel giro di pochi mesi dal gennaio del 2018.